Il forte vento di questi ultimi giorni ha provocato lo spostamento di grandissime masse di sabbia, qui come vedete nelle immagini Luca Corneli, cumuli di sabbia, vere e proprie dune che si sono accumulate lungo i marciapiedi, lungo le piste ciclabili ma anche lungo la sede stradale che per molti cittadini rappresentano un motivo di curiosità ma per chi si muove in bicicletta, chi si spossa in motociclo possono rappresentare anche un motivo di pericolo. A Montesilvano in particolare l'amministrazione comunale corsa subito ai ripari facendo intervenire delle squadre di operai che con l'ausilio di mezzi meccanici stanno provvedendo a rimuovere i cumuli di sabbia, a Pescara invece la sabbia resta accumulata sui marciapiedi, lungo la pista ciclabile e sugli scivoli per diversamente abili. Qualche cittadino armato di buona volontà con scopa, pala e cariola ha provveduto autonomamente a ripulire i tratti di marciapiede davanti le proprie attività commerciali. Le dune di sabbia accumulata dal vento rappresentano un motivo di forte rischio per chi si sposta in bici o in moto, è facile infatti perdere l'equilibrio e ritrovarsi sull'asfalto. Gli operai della società attiva in queste ore a Pescara sono intervenuti soprattutto nella zona di Porta Nuova. Il direttore generale dell'industria del recupero, Massimo Delbianco, ha sottolineato che è stata avviata la rimozione della sabbia dalle strade da Porta Nuova, zona teatro d'annunzio, alla Madonnina e dalla nave di Cascella fino a Piazza Salotto. La sabbia rimossa è stata rigettata negli arenili e sempre in tema di viabilità. E' stato riaperto da questa mattina il doppio senso di circolazione lungo Corso Vittorio Emanuele a Pescara. Dopo i lavori di rifacimento del manto stradale, qui vediamo proprio un esempio di ciò che è stato realizzato, è tornata la normalità, la viabilità sull'importante arteria cittadina. Ripristinato anche il transito dei bus della società tua in entrambe le direzioni. La chiusura della strada, lo ricordiamo, era stata resa necessaria per consentire lavori di rifacimento del manto d'asfalto. Il 28 gennaio scorso il cantiere era stato aperto nel tratto tra Via Genova e Corso Umberto per consentire il ripristino del manto pedonale sbeccato in più punti. Lavori dunque ultimati su Corso Vittorio Emanuele, ma che qualche cittadino ha fatto notare, sono presenti ancora delle buche e delle imperfezioni. Un lavoro fatto male e a metà è stato fatto notare.